La Germania è stata dura come ci aspettavamo, però poi grande reazione dopo il primo set. Sapevamo di dover affrontare un inizio di partita ostico perché Germania crede sempre, ha messo pressione in battuta, abbiamo fatto qualche errore di troppo in attacco, loro sono state brave a cercare alcune direzioni. Poi dal secondo set in poi la squadra ha reagito con personalità e con qualità tecnico-tantica importante e credo che il 3-1 sia strameritato. Ormai quando parti con una formazione devi sempre cambiare, non finisci con quella. Parto e non arrivo mai con lo stesso panino, diciamo. Sì, è così, ma non sono sorpreso. La cosa mi fa piacere dal punto di vista della squadra, nel senso di appartenenza. Oggi qualcuno ha dato un po' di difficoltà, ma lo era stato decisivo nelle partite precedenti, lo sarà ancora, quindi la squadra è quella che conta. Domani la Dominicana per finire col massimo di punti e poi guardare avanti. Sì, l'obiettivo è questo. Chiaramente, ormai abbiamo capito che la cosa si può fare. Adesso studiamo bene la Dominicana, è una squadra molto diversa dalla Germania, con altre qualità e con calma dopo questa grande vittoria ci tufferemo nell'ultima parte di questi giorni.